una bellissima farfalla sul fiore per succhiare il netare siamo sul monte estivo ed ecco ancora la farfalla proviamo ad andare più vicini sta succhiando il netare ed ecco che è scappata qua ce n'è un'altra che sta succhiando il netare ed ecco che è scappata panoramica della zona ed ecco il monte estivo 1250 metri sul livello del mare amici facebook amici facebook ciao